Ben tornati in studio per la seconda parte di Motorpad TV e parleremo di veicoli commerciali ma lo affronteremo il tema parlando anche di elettrificazione e lo facciamo con un veicolo che da sempre rappresenta i veicoli commerciali, il Ford Transit, per raccontarci cosa sta cambiando anche questo mondo. In studio con noi c'è Marco Allussaffi, direttore delle relazioni esterne di Ford Italia. Grazie Marco per essere con noi. Grazie a voi Paolo. Allora abbiamo sempre parlato di transizione energetica, di trasformazione del mondo dell'auto, di grandi cambiamenti ma ultimamente ci eravamo un po' dimenticati anche dei veicoli commerciali ma prima di arrivare a questi specifici mezzi da lavoro, parliamo di Ford. Ford ha deciso in maniera molto decisa di affrontare l'elettrificazione e l'auto elettrica nei prossimi anni. Quali sono i progetti? Perché sono molto serrati. Direi di sì, direi di sì, partirei proprio da questo. In effetti noi abbiamo già comunicato al mercato che dal 2030 in Europa commercializzeremo solo autovetture elettriche e sempre dal 2030 avremo due terzi dei nostri veicoli commerciali che saranno comunque in grado di viaggiare a emissioni zero, quindi o plug-in o elettrici. Quindi un grande grande cambiamento per un marchio storico di volume come Ford è sempre stato e con due tappe di avvicinamento. Entro il 2026 abbiamo detto che avremo il listino nelle autovetture, ogni veicolo, ogni vettura avrà almeno un derivativo plug-in se non del tutto elettrico e sui veicoli commerciali di 2024 ci sarà per ogni derivativo almeno una versione plug-in. Quindi un grande piano che ovviamente è accompagnato da grandi investimenti, più di 2 miliardi di dollari sullo stabilimento di Colonia dove verranno prodotte due vetture elettriche. Un grandissimo investimento, ancora non è stato esattamente comunicato all'importo, in Turchia per una joint venture, per una fabbrica di batterie. Insomma un piano molto molto forte che ovviamente corrisponde alla scelta evocale che Ford ha deciso di fare. Sono tanti veicoli che abbiamo visto in arrivo puramente elettrici nei prossimi anni. Quali segmenti andrete a coprire con le prossime novità? Allora noi abbiamo in arrivo nei prossimi 24 mesi 5 autovetture elettriche di cui 2 sono dei crossover, uno un po' più sportivo, uno un po' meno sportivo che saranno fatti sulla piattaforma MEB che è frutto della nostra alleanza con il marchio Volkswagen e il terzo prodotto che abbiamo già annunciato è la Puma versione completamente elettrica e poi ci sono due vetture ancora misteriose di cui oggi non possiamo parlare perché ne parleremo un po' più avanti. Però è un arco temporale se tu ci pensi molto stretto, 24 mesi per 5 prodotti e sui commerciali sono 4 nello stesso arco temporale. Quindi voglio dire un piano di lanci che parte da metà 2023 fino alla fine del 2025, primi del 2025, molto serrato. Quindi dalla Mustang Mach-E non sarà sola, si aggiungeranno tutti questi nuovi veicoli. E quindi li vedremo strada facendo. Ma andiamo nello specifico, i veicoli commerciali. Ford non dimentica chi lavora. Transit è leader europeo, leader mondiale per il trasporto e per i mezzi da lavoro e ha appena presentato una versione totalmente elettrica. Allora anche qua un grosso cambiamento. Un grande cambiamento. Qui voglio dire la nostra esperienza in quanto leader di mercato che ci consente di avere tanto milioni di veicoli sulle strade e quindi milioni di clienti che ascoltiamo, ci hanno fatto fare un ragionamento molto semplice in realtà. E cioè i veicoli commerciali saranno il territorio su cui probabilmente l'entificazione avrà una velocità di implementazione molto più alta rispetto all'autovettura. Perché? Perché i tragitti, le percorrenze e gli orari di lavoro di un veicolo commerciale sono molto più prevedibili che non quelli di un'autovettura che oltre a essere usata per il lavoro è anche usata per il tempo libero, per le cose personali. Quindi questo tipo di prevedibilità fa sì che il veicolo commerciale sia il veicolo ideale su cui puntare per un'elettrificazione. Noi abbiamo lanciato il transit elettico da un paio di mesi proprio sull'onda anche del fatto di quello che ci raccontavano i nostri clienti. Negli ultimi 36 mesi, complice anche la pandemia di cui tanto abbiamo parlato, le vendite online e le consegne a domicilio sono aumentate in maniera esponenziale. Con essa sono aumentate le vendite dei veicoli commerciali per le consegne. Automaticamente si è ridotto il chilometraggio medio di questi veicoli che oggi ci dicono i nostri clienti essere nell'intorno dei 200 km e forse neanche ci arrivano. Allora avere un veicolo commerciale elettrico come il transit che fa più di 300 km chiaramente diventa la scelta ideale per questo genere di aziende in termini di efficienza e di costi di esercizio. Tra l'altro mi viene subito una domanda. Hai parlato di una percorrenza importante, quasi tutta cittadina, l'aumento delle consegne, tutti facciamo acquisti online e aspettiamo il parco a casa. Come si coniuga la percorrenza, la capacità di carico su un veicolo elettrico? Perché è un aspetto fondamentale. Mentre hai detto sappiamo come lavora e dove lavora e quando lavora il veicolo elettrico, però lo devo caricare. Come risponde il veicolo elettrico a questa esigenza? Ma risponde ovviamente, la risposta più semplice è che risponde bene, ma chiaramente le prove per arrivare alle omologazioni, per avere una quantificazione dell'autonomia di un veicolo commerciale, non sono fatte tenendo conto della capacità di carico, del carico del veicolo commerciale. Perché chiaramente quello è un aspetto imprescindibile, fare un veicolo commerciale che faccia tantissimi chilometri ma senza caricare niente, voglio dire non serva a nulla. Quindi il nostro transit è omologato per più di 300 km a pieno carico, chiaramente, quindi... E quindi un aspetto importante è per aiutare a scegliere il... a decidere il passaggio dal veicolo con motorizzazioni convenzionali a quello elettrico, avete creato un marchio opposto, proprio sulla base della consulenza e del consiglio alle aziende o a chi deve lavorare. Ecco, si chiama Ford Pro e cosa racchiude? Perché è un sistema... È una divisione, è una divisione che come dici te giustamente racchiude tutto il mondo del veicolo commerciale e quindi non solo i veicoli che quello sono il nostro core business se vuoi, ma quelli che sono i business che inevitabilmente dovremo affrontare noi in prima battuta nel futuro. Quindi la consulenza per quello che è il... tutti i sistemi di ricarica, i software che possono servire alla gestione di una flotta, le formule di finanziamento, insomma ci sono tutta una serie di aspetti sul quale noi per primi dobbiamo fare... andare a scuola, imparare per certi versi o inserire delle figure che siano altamente specializzate per diventare dei consulenti ai nostri clienti che ormai cercano una consulenza a 360 gradi. Oggi tutti i mezzi hanno un modem, sono tutti collegati, sono tutti collegabili e quindi avere dei software che ti consenta di controllare lo stato di salute, le percorrenze, i tempi di ricarica, serve a ottimizzare e in ultima analisi ad aumentare la produttività che è poi il punto più delicato per chi lavora con i veicoli commerciali. Quali sono le versioni del transit che diventeranno elettriche? Perché il transit è un insieme di varianti, di carrozzerie, di modelli, di lunghezze? Vi siete concentrati su qualcosa o riguarda tutta la gamba? Mi verrebbe da risponderti tutte, perché in effetti sarà così. Adesso comunque diciamo che quello che abbiamo annunciato fino ad oggi, abbiamo una parte lanciata che è il transit, quello grande, quello da due tonnellate, l'anno prossimo lanceremo il custom, il transit custom che è il veicolo leader in discorso in Italia, in Europa, nel segmento da una tonnellata e quindi un veicolo molto atteso quello, elettrico, e poi seguiranno anche i, chiamiamoli piccolini della famiglia. Ecco, quali sono le opzioni? Ci sono delle opzioni, delle motorizzazioni, delle batterie, come si può scegliere? Parliamo del transit attuale che è l'unico che abbiamo in questo momento in commercio, che ha una batteria a 68 kilowatt, che è una batteria che consente di avere, intanto di essere caricata molto velocemente e anche con le ricariche veloci e poi consente di avere quell'autonomia che, insomma, come abbiamo visto è ampiamente al di sopra di quella che è la percorrenza media, che ci dicono i clienti, non abbiamo fatto noi delle analisi. Un altro degli aspetti che per chi lavora e dovrà scegliere il veicolo elettrico è quello della gestione dei costi di esercizio. Ci sono delle differenze con un veicolo elettrico e un veicolo con motore convenzionale. Cambieranno anche questi costi per chi lo sceglie? Beh, i costi cambiano sicuramente e cambiano in positivo per i clienti. Questa è una cosa importante, io pensavo costasse di più quell'elettrico, invece mi stai dicendo no, costa di meno. Il costo di gestione è inferiore perché è inferiore il costo di manutenzione, il motore elettrico è un motore sicuramente meno complesso di un motore tradizionale e quindi è meno soggetto a rotture o comunque a costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e poi il costo del rifornimento perché adesso è vero che questo è un momento in cui parlare di energia non è facile, però l'efficienza di questi motori e il costo attuale dell'energia lo rendono sicuramente più efficiente e meno costoso di un veicolo tradizionale. Chi lavora ha bisogno di un abitacolo confortevole perché passa tante ore, avete affrontato anche questo aspetto perché è fondamentale? È un aspetto che affrontiamo costantemente ogni volta che progettiamo un nuovo transit perché appunto siamo un po' il punto di riferimento di mercato. Abbiamo già delle soluzioni interessanti ma sul nuovo custom ci saranno delle soluzioni molto interessanti e curiose, ti faccio un esempio che dà un po' l'idea di quanto nel dettaglio alle volte si vada per trovare le soluzioni che vadano bene per i nostri clienti. C'era sempre stato detto che al cliente mancava un punto d'appoggio nell'abitacolo che diventa un po' il luogo dove vivono dalla mattina alla sera e allora abbiamo breve fatto, brevettato, progettato e brevettato un volante che si reclina diventando piatto e può diventare un punto d'appoggio per il computer così come anche un tavolinetto per mangiare. Quindi questo per dirti il livello di dettaglio a cui si va per poi trovare le soluzioni che vadano bene, che poi li utilizzano la mattina e la sera. L'ultima domanda perché siamo proprio in chiusura, eccolo, lo vediamo il tavolino che hai appena citato e se è una rivoluzione per i costruttori sarà una rivoluzione anche per la rete di vendita, bisogna prepararla a consigliare questa trasformazione, state lavorando anche su questo aspetto? Stiamo andando a scuola noi ma stiamo andando a scuola tutti insieme con la nostra rete di vendita, i nostri funzionali di vendita perché il mondo elettrico è un mondo che ha, come dicevo prima, oltre al pure semplice veicolo che già di per sé va studiato perché è completamente diverso da quello a cui siamo abituati, ma poi c'è un mondo intorno di servizi, di software, di sistemi di ricarica sulle quali noi per primi e i nostri venditori insieme a noi devono essere super preparati per essere dei veri e propri consulenti. Bene, ringrazio Marco Lusaffi, direttore di relazione esterna di Forum Italia per averci raccontato questa trasformazione del transit e vi ricordo come sempre di seguirci sui web e sui canali social, ma una cosa non cambierà mai, vi diamo con la testa e soprattutto ci vediamo settimana prossima.